la strada all'estrema destra, ma ha consegnato un paese all'ingovernabilità. E mi pare che le dichiarazioni dell'esponente della Francia in Doma, Mai Doma, lo dimostri, no? Sì, mi sembra che per Macron l'unica via d'uscita sarebbe una crisi istituzionale grave, perché sostanzialmente sta prorogando a tal, cioè qualcosa di vero, tenendolo un po' sospeso, senza nessun voto di fiducia. La sua speranza è che si logori la coalizione, che esploda la coalizione del Nouveau Front Populaire, e secondo me non è un calcolo lungimirante per uno che è alla Presidenza della Repubblica, per uno che è all'Eliseo. Lui è vero che il Presidente della Repubblica ha un ruolo più esecutivo in Francia, ma è anche vero che lui è il garante delle istituzioni. Secondo te è immaginabile un governo che si forne in Parlamento, lo diceva poco fa Antonio Caprarica, che come esclude il Rassemblement Nazionale, che ovviamente si è chiamato fuori fin dalla notte di domenica, tenga fuori anche la France Insoumise, o sarebbe un tradimento del voto? Secondo me no, ma servirebbe un'intelligenza politica e Mélenchon non ha ancora dimostrato. Cioè anziché dire io, 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 Mélenchon ha una coalizione ampia in cui c'è una forza più moderata, e avrebbe tutto l'interesse di proporre lui una candidatura di un socialista, non lo so, un Hollande, un chiunque che possa funzionare come garante di un governo che ottiene i voti dei macroniani. Quindi lui ributta la palla nell'altro campo, dice signori, metto un uomo moderatissimo della mia coalizione, la coalizione che è arrivata prima, perché questo è vero, votatelo. Perché altrimenti, altrimenti mi sembra che il gioco in Macron, gioco folle, demenziale, sia puntiamo a far esplodere quella coalizione e poi prendiamoci i resti, a questo punto con un macroniano, non so, si parla di Philippe, il personaggio abbastanza probabile. Quello che tu chiami... L'ultima cosa che vuoi dire è che non ci si rende bene conto, fino in fondo, fra i commentatori italiani, di quanto si è screditato Macron. Cioè Macron è riuscito, grazie alla desistenza, a ottenere moltissimi collegi uniminali. Però è un...